Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Dio misericordioso, che prodigasti il tuo amore e i tuoi doni a Santa Laura Montoya, rendendo la discepola fedele del tuo figlio e missionaria dei poveri, concedi a noi, per sua intercessione, la grazia. Che ardentemente desideriamo e che mossi dalla forza del tuo spirito annunciando il Vangelo di raggiungere il dono della pace e per tua volontà di trovare aiuto alle nostre necessità, Amen. Gloria al Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen. Santa Laura Montoya prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen